Maran è un allenatore che si spiega benissimo, usa poche parole ma molto chiare. Ad esempio, per spiegarci come si marcano gli attaccanti avversari, ha usato tre sole parole. Attaccati come cozze. Capito? Quando arriva l'attaccante bisogna attaccarci come cozze. Attaccati come cozze. Ma da dove gli sarà venuta questa idea? Nieditas. Noi siamo il mare.